Meraviglioso banner youtube con Gimp e OpenEye Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academia, io sono Alex Nel video di oggi creeremo da 0 a 100 un progetto di un banner youtube o banner per qualsiasi altro lavoro voi vogliate fare Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica Gimp Link in descrizione per il download Allora ragazzi, creeremo oggi un banner youtube in stile manga perché mi ha contattato Anosmel che probabilmente avrete anche visto nei commenti di youtube e mi ha contattato e mi ha detto Alex perché non ci fai vedere come creare un banner youtube in stile manga professionale al che io ovviamente ho detto ma sai per creare una cosa di questo genere ovviamente ci vuole del tempo soprattutto se lo richiedi professionale ci vuole delle ore o forse anche dei giorni però l'idea mi è piaciuta molto e ho cercato di pensare come fare un banner che possa essere per youtube o comunque un banner per qualsiasi altro progetto in maniera il più professionale possibile in tempi brevi quindi creeremo da 0 a 100 questo progetto e lo creeremo insieme è ragazzi un progetto questo che coinvolgerà parecchie tecniche, alcune anche nuove quindi vi farò proprio vedere passo passo come creare un lavoro dall'inizio alla fine quindi mi raccomando seguite il video fino alla fine perché veramente lo creeremo insieme allora ragazzi banner in stile manga l'idea che mi è venuta è quella ovviamente di dovendo fare un lavoro professionale in tempi brevi ovviamente l'idea è stata quella di avere dei contenuti facili, veloci e comunque di qualità in tempi brevi quindi come avrete già capito farò sicuramente ricorso all'intelligenza artificiale ho già fatto un video che riguarda l'intelligenza artificiale vi linko qui in alto a destra il link per il mio video dello speciale 1500 iscritti nel quale vi spiego come funziona andiamo a prendere il nostro google e andiamo ovviamente su openai.com e apriamo dal i, che è quel sito di intelligenza artificiale di OpenAI la società di Elon Musk che ci permette di creare da una nostra descrizione delle immagini che possiamo prontamente utilizzare senza diritti d'autore quindi ragazzi andiamo subito a fare prova dal i inizialmente avete 50 crediti e potete veramente sbizzarrirvi allora quindi dobbiamo andare a creare un contenuto che sia in stile manga per il nostro banner quindi io ho pensato di scrivere ho fatto ovviamente già delle prove, ho già scaricato alcuni file però voglio farvi vedere come è stato il mio procedimento disegnami un personaggio maschile in stile manga con aspetto fiero e furbo mettiamo così ragazzi qui ovviamente dovrete andare a inserire una descrizione che sia il più possibile inerente e dettagliata del contenuto che voi volete fare ovviamente a seconda del banner del canale che voi avete ovviamente farete un banner ovviamente inerente al contenuto del vostro canale genera, andiamo a vedere cosa ci genera questo ragazzi è un esempio io ho già fatto alcune prove ovviamente voi dovrete fare più prove e andare a scegliere quello che più vi piace ci ha già creato delle interessantissime immagini manga che possiamo mantenere o possiamo rifare io direi che posso scegliere questa e oddio non è proprio bellissima sinceramente torniamo indietro andiamo magari a scegliere questa che forse è un po' più interessante fatto questo ragazzi noi sapete com'è fatto un banner quindi è stretto e lungo dopo vedremo ovviamente le dimensioni esatte clicchiamo su modifica dobbiamo fare una cosa che sia il più possibile stretta e lunga quindi dovremmo andare ad aggiungere dei frame quindi andiamo su modifica e vedete che lui ci apre questa parte nel quale noi possiamo andare a inserire il nostro frame di generazione lo andremo a inserire qua faccio un piccolo zoom indietro lo andremo a inserire qua in modo che ci prenda comunque una parte qui e sia compatibile ovviamente con questa parte e qui ci andrò quindi che sia una prosecuzione di queste immagini qui magari ci andrò a scrivere disegni un personaggio femminile femminile in stile manga con aspetto con aspetto anzi con anzi in atteggiamento ammiccante e furbo mettiamo così inventiamo andiamo a vedere che possibilità ci dà dal i noi dovremmo creare ragazzi questo frame che poi andremo ovviamente a scaricare ed importare in gimp e sarà la base del nostro del nostro banner utilizziamo ragazzi come vi ho detto diverse tecniche quindi veramente guardate che carino questo veramente molto molto carino questo ci sta e sapete che qui avete le quattro opzioni quindi scorrete bruttissimo questo brutto no mi piace di più il primo accettiamo molto bene creiamo un altro frame di generazione quindi vedete vedete che lui ci ha creato proprio qui vedete che ci ha continuato l'immagine noi dobbiamo fare proprio una cosa di questo genere quindi andiamo non qui ovviamente non qui ma qui a prendere parte ovviamente dell'immagine che abbiamo già che abbiamo già ovviamente utilizzato e qui andremo a mettere disegnami un personaggio disegnami un dragone giapponese in stile manga che sputa fuoco invento eh ragazzi ovviamente voi dovete fare delle prove e andiamo a vedere generiamo andiamo a vedere le scelte che ci dà da lì e poi andremo ovviamente a scaricare andiamo a vedere ragazzi stiamo creando da 0 un progetto quindi da 0 a 100 quindi molto molto importante perché vi fa veramente capire come si lavora in questo tipo di frangenti questo è un dragone si fa per dire ma questo potrebbe essere interessante facciamo conto che ci piaccia questa parte qui no però c'è questa parte di braccio che non mi piace ma facciamo questa va bene accettiamo molto bene ragazzi cosa dovremmo fare dovremmo andare ovviamente a scaricare quindi andremo qua ovviamente su questo pulsante e vedete che lui ci ha scaricato da lì e andremo le nostre immagini ovviamente scaricata andiamo ad aprire vedete che abbiamo le nostre immagini che sarà la base del nostro frame io torno su Gimp ragazzi quindi voi dovrete fare delle prove e tante prove fino a che non avete quello che cercate quindi andate sempre più nel dettaglio con la descrizione io ragazzi ho fatto diverse prove e quella che mi è piaciuta di più ho scaricato è stata questa è stata esattamente questa qui quindi vedete immagine di vedete questo personaggio manga con un personaggio femminile è un po' quello che ho scritto prima ok questa è stata l'opzione che mi è piaciuta di più andiamo a ovviamente modificare iniziamo ad andare a modificare questa immagine ovviamente vedete ragazzi che qui non è perfetta perché c'erano delle altre cose che io ho cancellato e andiamo ovviamente a iniziare a modificare questa parte ragazzi sarò ovviamente un po' veloce per ragione di tempo perché ci chiederà un po' di tempo questo progetto tra l'altro spero di riuscire a fare una premiere quindi molto probabilmente mi vedrete qui in chat quindi mi raccomando se state guardando il video salutatemi perché io sono qua in chat nel caso in cui non riuscite a farla ve lo scrivo nei commenti ma penso di esserci quindi ragazzi mi raccomando scrivetevi così parliamo direttamente in chat in diretta andiamo ovviamente a duplicare come ben sapete quindi andiamo a duplicare il nostro livello questo lo chiamiamo sfondo e questo lo chiamiamo sfondo 2 molto bene andiamo ovviamente a rendere invisibile questo come già ormai dovreste sapere io ragazzi inizio a modificare quindi vado ovviamente con il nostro con il nostro strumento di selezione rettangolare e vado a prendere questa parte faccio un bello zoom ovviamente e vado a prendere le mie maniglie in modo tale da andare proprio qui a prendere la parte precisa qui va bene anche se è più in sotto non è un problema e vado qui magari qua così ovviamente ragazzi dovrò andare a colorare questa parte di verde lo stesso colore di questo verde quindi prenderò il mio prelievo colore clicco su prelievo colore vedete che qui mi ha messo il verde prendo e vado e vedete e poi faccio un control muscolo da e vedete che mi ha tolto la selezione faccio la stessa cosa qui quindi selezione rettangolare vado qui verde e coloro tolgo con contro minuscole a faccio un bello zoom vado a prendere questa parte vado qui coloro di verde prendo e coloro e vado ragazzi anche da quest'altra parte e faccio la medesima cosa quindi prendo mi sposto con la barra spaziatrice vado e colorare di verde prendo questa parte e vado a colorarla di verde mi sposto con la barra spaziatrice prendo tutta questa parte trasparente vedete e la coloro ovviamente di verde tolgo la selezione e vado ad agire qui ovviamente andrò ad agire col pennello quindi strumento pennello mi si apre vedete il pannello delle opzioni dello strumento pennello come dimensione prenderò una dimensione molto piccola quindi ctrl alt e vado con la rotina del mouse e con il mio colore ovviamente sempre verde prendo il prelievo colore vedete qui mi appare il verde con torno al pennello con una forza e una durezza abbastanza importanti vado a dipingere questa parte nel dettaglio in maniera tale da mantenere il questo capello ok di questo personaggio manga ovviamente farò così io ragazzi ovviamente come non mi stancherò mai di dirvi sapete che ve lo dico sempre farò le cose velocemente non farò le cose con precisione voi ovviamente metteteci tutto il tempo necessario perché è maggior tempo maggiori dettagli maggiore e migliore sarà il risultato finale e direi che così già ragazzi vedete che ci siamo ora possiamo andare a creare iniziare a creare le dimensioni del nostro banner youtube che come ben sapete ha delle dimensioni ben precise quindi andiamo su apri e andiamo su vedete banner youtube dimensioni andiamo qui e vedete che le dimensioni del banner sono queste per la visualizzazione da mobile è questa questi pixel per la visualizzazione da tablet un po' più grande display desktop un po' più grande e la più grande di tutte è il display tv ho fatto un video sulle dimensioni su come si imposta il template per il banner youtube vi linko qui in alto a destra il link per il mio video comunque molto semplice lo andremo a rifare adesso dovremo andare a creare ovviamente una nuova immagine con iniziamo da quella più piccola quindi visualizzazione mobile 1546x423 nuova immagine 1546x423 ok e ovviamente colore di sfondo il bianco in questo caso questo è la visualizzazione del banner da mobile quindi andremo a prendere la nostra immagine che abbiamo creato la portiamo qui e andiamo qua provate a dire quanto sarà le dimensioni di questo prima parte del banner sarà esattamente uguale a questo quindi 1546x423 quindi andiamo in questo caso non da qui a scalare ma da qui livello scala livello perché? perché qui abbiamo l'impostazione dell'interpolazione e noi metteremo no aura perché è quella che ci metterà un po' più di tempo ma sarà quella più precisa nell'interpolazione quindi perdremo meno quantità di dati quindi 1546x423 e dovremo togliere qui ovviamente 1546x423 dovremo togliere la catenella altrimenti ci rimarrà con le proporzioni identiche scaliamo e vedete ragazzi che abbiamo esattamente creato della stessa misura identica ovviamente ragazzi state attenti a che non si storpi troppo a fare questo lavoro altrimenti dovete ricreare l'immagine ok o comunque ridimensionarle e rifare le proporzioni rifate ovviamente anche potete anche andare a riscaricare con da lì con proporzioni più adeguate quindi la prima parte è fatta molto bene abbiamo la prima parte del manga del banner manga fatto ora avremo bisogno dei primi abbellimenti di questa parte per fare gli abbellimenti ragazzi abbiamo bisogno di due cose uno del font adatto quindi del carattere tipo grafico adatto e secondo delle pennellate giuste quindi avremo bisogno di pennelli prima cosa font quindi carattere tipo grafico andiamo ovviamente su google inseriamo font vi verranno fuori tantissimi siti da quale potete scaricare ovviamente i font più disparati io ho scelto ho messo font manga e mi ha indirizzato verso questo sito che è uno dei più importanti che si chiama da font.com ho inserito manga qui nel tasto di ricerca e mi ha trovato tra gli altri questo che mi è piaciuto molto che è lo zenzai itacha o itachi quindi ovviamente ho provveduto allo scaricamento l'ho scaricato state ragazzi sempre molto molto attenti al diritto d'autore questo ad esempio è utilizzabile free per usi personali usi scopi didattici ma non per usi commerciali quindi ho potuto scaricarlo una volta che l'avete scaricato io l'ho scaricato la mia cartella banner manga vedete lo aprite con 7zip vedete che è un set di font quindi voi ovviamente scegliete quello che preferite senza itachi ad esempio lo scaricate e ovviamente quando voi vedete che l'avete zippato quindi l'avete decompresso quando lo andate a cliccare questo è un carattere ttf quindi true font lo cliccate lui vi apre l'anteprima nel quale vi fa vedere ovviamente i caratteri del font e cliccate su installa lui ve lo installerà in automatico in windows quindi una volta che voi dopo chiuderete e riaprirete gimp mi raccomando salvate il lavoro ve lo ritroverete infatti se io torno al nostro gimp e clicco qui clicco qua vedete che io mettendo la z maiuscola ho lo zenzai itachi e quindi posso tranquillamente utilizzarlo prima cosa fatta seconda cosa i pennelli ragazzi i pennelli ovviamente qua dovrò andare ad inserire dei pennelli se non li ho già ovviamente come sapete noi abbiamo queste tipologie di pennelli che sono quelli di gimp lo apriamo magari qui che lo vediamo meglio abbiamo questi che sono i principali vedete questi con questi sono i principali di gimp io ho inserito tutti questi in mezzo vedete che sono delle pennellate particolari come ho fatto per scaricare questi pennelli per scaricare questo set di pennelli o altri tipi di pennelli noi dobbiamo andare di nuovo su google quindi apriamo il nostro chrome vedete che io ho già aperto il sito giusto se voi mettete su google free photoshop brushes che vuol dire ovviamente pennelli per photoshop che sono ovviamente compatibili anche per gimp oppure potete mettere anche pennelli free per gimp o per photoshop vi vengono fuori tanti siti nel quale ovviamente potete scaricare dei pennelli per il vostro programma e vi ricordo quelli di photoshop vanno bene quindi potete tranquillamente scaricarli uno dei siti principali è myphotoshopbrushes.com e io ho scaricato tra i vari questi vedete 192 pennelli inchiostri gratuiti per photoshop vi lascio comunque il link in descrizione e l'ho scaricato ragazzi vedete queste belle pennellate ragazzi sempre state attenti ai diritti di autore mi raccomando quando scaricate quando soprattutto utilizzate i vostri contenuti quindi io ho scaricato e nella cartella vedete banner manga vi faccio vedere anche vi faccio rivedere questa cosa ragazzi come installare i pennelli l'abbiamo già visto in un video dedicato ma voglio fare da 0 a 100 il progetto insieme a voi quindi questa vedete è il set di pennelli in formato zip ci clicchiamo sopra e vedete che avremo la cartella free ink photoshop brushes e dentro avremo questo file oltre ovviamente al readme free ink brushes punto abr che è un'estensione dei pennelli di photoshop compatibili anche per gimp dove dovremo andare a decomprimere a estrarre per meglio dire questi pennelli ovviamente in gimp dovremo andare nella cartella specifica di gimp dei pennelli che si trova in modifica si trova in preferenze vedete che qua in basso abbiamo tutte le cartelle dove sono posizionati tutti i relativi contenuti e vedete che in pennelli noi abbiamo due directory la prima è quella selezionata è quella che ci interessa vedete e lo apriamo così vedete e c'è brushes ci entriamo dentro e vedete che io ho già scaricato qui ci sono già andato a estrarre precedentemente free ink photoshop brushes vedete con il file quindi potete metterlo sia qui direttamente sia creare la directory inserirla vi conviene comunque scaricare solo il file free ink brushes punto abr e metterlo direttamente nella cartella brushes vedete anche questo vbr è un altro tipo di pennello che avevo scaricato tempo fa bene quindi una volta che voi poi ovviamente anche in questo caso sempre dovete chiudere gimp e riaprirlo vi ritroverete questo set di pennelli qui nel pannello delle opzioni dello strumento pennello quindi ragazzi dovremo andare ad abbellire questo banner e iniziamo con il nostro quindi pennello che abbiamo scaricato magari andiamo su questo che è una bella pennellata andiamo a mettere una dimensione giusta magari intorno ai 240 indicativamente direi con una forza e una durezza abbastanza alte facciamo un bello zoom andiamo col nostro colore nero in questo caso andiamo però prima a creare il livello andiamo a creare un livello e lo andiamo a chiamare pennelli e scritte anzi no pennelli e basta pennelli ovviamente con riempimento trasparente andiamo a creare la nostra bella pennellata la creiamo qua bene molto bene e andiamo a crearla anche qui direi direi in questa parte qua molto bene molto bene ci serviranno solo le nuvole per le scritte per il nome del canale ottimo e andiamo a ruotare anzi no andiamo prima a duplicare andiamo a duplicare andiamo a creargli un bel alone intorno quindi tasto destro livello dimensione immagine questo perché il livello deve essere grande come l'immagine se vogliamo dargli una bella sfocatura come vogliamo dare adesso tasto destro alfa selezione dove ci seleziona solamente tutto quello che non è trasparenza quindi le due nuvolette andiamo a prendere il colore vedete questo lo stesso colore di questo ragazzi ovviamente mi raccomando quando fate questo tipo di progetti due tre colori al massimo più il bianco e il nero perché date una tonalità unica date un senso di armonia a tutto il banner prendiamo mettiamo il colore vedete che questo livello se schiacciamo qui con l'occhiolino diverrà arancione e quindi spingiamo shift e occhiolino che ovviamente torniamo a rendere visibile tutti i livelli e andremo a togliere la nostra con maiuscolo shift e a la nostra selezione andremo a sfuocare quindi filtri sfocature sfocature gaussiana andiamo a sfuocare vedete un po' il contorno quindi vedete andiamo a rendere questa bella sfocatura intorno alla che ci sta molto bene intorno al nero possiamo anche duplicare se vogliamo per ingrandire l'effetto molto bene e dopo cosa facciamo andiamo a rendere un unico livello quindi fondiamo in basso con il livello sottostante con questo tasto vedete quindi ci ha creato un unico livello con le nostre nuvole e le nuvole sottostanti e ora possiamo andare a ruotare quindi ruotiamo e andiamo a ruotare il nostro livello di meno 8 facciamo benissimo ricordiamoci il meno 8 perché ci servirà dopo attenzione sto facendo dei danni ci servirà ovviamente dopo perfetto guardate che bello che sembra anche che si illumini e vedi il vestito della ragazza molto bene ok ci siamo anzi direi anche così va anche sopra al braccio che ci sta molto bene ora ragazzi dovremo andare a scrivere quindi andremo a scrivere con il nostro font che abbiamo scaricato e andremo a scrivere di verde quindi prendiamo questo e andiamo a prendere il colore verde dei capelli del ragazzo per dargli omogeneità e andremo a scrivere andremo a scrivere con un 56 non lo so vediamo diamo il nome del canale il nostro canale manga si chiama daizuke che credo sia un nome manga ho cercato su internet qualche nome manga e mi è piaciuto daizuke quindi daizuke manga dreams quindi daizuke sempre con il nostro zenzai itachi daizuke lo prendiamo lo mettiamo qua si possiamo renderla anche un po' più grande mettiamo un bel 60 anzi 62 65 65 lo prendiamo lo mettiamo qua e ovviamente dovremo andare a ruotare di quanto avete già capito di meno 8 la stessa inclinazione di prima molto molto bene vedete stessa cosa qui andremo a scrivere scusate non con questo ma con questo andremo a scrivere manga e sotto quindi invio spostiamo un po' con il nostro space manga dreams manga dreams lo prendiamo cerchiamo di ridurre un po' perché sarà sicuramente troppo grande essendo due nomi riduciamo vedete la regola della spaziatura tra le righe deve essere bassa la spaziatura così facciamo anche mettere la M sopra la D prendiamo lo portiamo qua forse anche un po' più piccolo quindi facciamo un 40 48 ok e andiamo a ruotarlo sapete già di quanto di meno 8 meno 8 io ragazzi sto andando veloce voi farete gli abbellimenti maggiori ruota molto 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 bene ed ecco qui che la prima parte del nostro banner è fatta ora dobbiamo andare ad impostare la superficie per la visualizzazione tablet e pc lo facciamo in una volta unica le nostre dimensioni sono queste vedete quindi visualizzazione tablet e visualizzazione display desktop quindi 1855x423 creeremo un nuovo livello creeremo qui abbiamo detto un 1855 quindi 1855x423 magari di sfondo bianco andremo a creare ok quindi eccolo qui e lo chiameremo sfondo sfondo tab lo mettiamo sotto ovviamente quindi un livello sotto andiamo a creare ancora un nuovo livello in questo caso lo chiameremo sfondo pc colore nero quindi colore di primo piano in questo caso vedete che è nero dimensioni 2560 quindi 2560 per 423 e vedete che lui ci ha creato il vedete questa parte di immagine perché non si vede non si vede nel bianco nel nero che abbiamo impostato intanto il fondo pc lo mettiamo sotto a tutto perché ovviamente la nostra immagine è impostata come superficie a questo livello cioè il livello di buffer rilasciato questo vedete e invece io vedete qui ho questa parte di immagine quindi devo andare ovviamente a dire mi raccomando immagine vammi a impostare la superficie ai livelli e vedete che infatti mi è andata a prendere mi ha preso questa parte di immagine ora rimane un problema quello di centrare questa parte del banner quindi e anche di questa in realtà ha lo sfondo sotto quindi andiamo a selezionare tutto vedete con questo che chiudiamo vedete chiudiamo vuol dire che blocchiamo cioè facciamo una modifica a un livello e faremo la modifica a tutti questi livelli bloccati potevamo fare un gruppo ma era più lungo un gruppo di livelli andiamo sul nostro strumento di strumento a linea prendiamo tutta questa parte e relativo all'immagine andiamo a centrare vedete eccolo qui ovviamente ci ha creato un problema quello delle di questa parte qui vedete delle nuvole e delle scritte che c'è ovviamente si è andato a decentrare ma noi lo prendiamo andiamo sui pennelli andiamo a rimettere al loro posto qui ovviamente ragazzi a volte capita anche questo ma non vi preoccupate tanto il lavoro comunque è lungo quindi ovviamente sapete che sono cose che normalmente succedono anzi vi serve per andare a riposizionare in maniera migliore rispetto a prima le varie scritte e i vari pennelli quindi sempre non vi preoccupate eccolo lì direi ottimo molto molto bene allora direi di fare una cosa del genere la visualizzazione sia tab che pc quindi questa e questa la farei tutta nera quindi andrei qui sul sfondo tab e prenderei la parte nera e andrei vedete che ci ha creato questa parte nera questo perché voglio creare due immagini qui che possono essere visualizzate anche da sfondo pc che è la visualizzazione più classica questa parte la lasciamo nera chi visualizza chi visualizzerà da tablet vedrà questo contorno nero intorno chi visualizza da pc ovviamente vedrà anche le due immagini che andremo a inserire qua di fianco le andiamo a inserire ovviamente prendendole anche in questo caso dall'intelligenza artificiale quindi torniamo sul nostro dal i che è questo e andremo a scrivere torneremo indietro quindi dal i e andremo a scrivere ad esempio io ho scritto disegnami un volto femminile in stile manga dall'aspetto dolce andiamo a vedere cosa mi viene fuori in questo caso magari mi viene qualcosa anche di più bello rispetto a prima ovviamente fate voi tante prove e a seconda di quello che volete mettere andate a scaricare un immagini che poi dovete inserire nella visualizzazione pc vediamo si ci può stare questo è carino questo è anche forse più carino sceglierei questo io dopo vi faccio vedere cosa ho scelto io nelle varie prove che ho fatto e poi magari dall'altra parte andrei a mettere un simbolo giapponese magari delle lettere giapponesi quindi disegnami disegnami due lettere giapponesi giapponesi con due anzi tra due canne di bambù andiamo a vedere cosa viene fuori poi voi ragazzi voi scegliete quello che ovviamente preferite andiamo a vedere io ho fatto prima ovviamente precedentemente delle prove e ho scaricato due immagini che dopo vi faccio vedere carino si potete mettere o una di queste o comunque fare delle altre prove io ho scaricato queste due vi faccio vedere qui ho scaricato questa vedete molto carina e questa quindi le andrò ad inserire nel mio progetto di Gimp e le andrò a inserire ovviamente qua quindi andrò a prendere un file andrò però soprattutto in modo da aprirla aprire il livello sopra tutti gli altri apriamo apriamo come nuova immagine facciamo così e andiamo a scaricare l'immagine di questa ragazza molto carina andiamo a prendere e la mettiamo qui ovviamente sarà più grande la andremo ovviamente a scalare proporzionalmente quindi torno indietro chiudo e andremo a scalare proporzionalmente la metterò indicativamente qua come grandezza direi che ci siamo scaliamo quanto fatto facciamo 245 ok anzi 250 un po' più visibile e quindi facciamo conto pari ricordiamoci ragazzi la visualizzazione tablet che è questa la andremo a mettere proprio qui a pelo in maniera tale che sia il più possibile al centro di questa parte perfetto molto bene andiamo a prendere una nostra guida quindi prendiamo la guida da questa parte la tiriamo giù perché ci servirà per l'altezza di questa parte andiamo a scaricare anzi andiamo ad aprire come livello anzi come immagine l'altra nostra immagine che è questa delle due lettere tra le canne di bambù che è questa decisamente più bella rispetto a quella che mi ha fatto vedere adesso da lì prendiamola andiamo a mettere qua la mettiamo qua e ovviamente lo scaliamo e andiamo a scalarlo di 250 di 250 pixel scaliamo prendiamo e andiamo a metterlo ovviamente a ridosso di questo e proprio qui dove c'è la la nostra il nostro righello e vedete che ci ha creato esattamente alla stessa altezza e la stessa distanza questo e questo e abbiamo finito la nostra seconda parte del nostro banner quindi terza e ultima parte del nostro banner prima degli avvenimenti finali andiamo ad impostare la visualizzazione tv che è quella più grande che è quella più di impatto come andiamo ad impostarla 2560 per 1040 ovviamente creiamo un nuovo livello intanto facciamo immagine guide rimuovi tutte le guide togliamo questa guida che ormai non ci serve più e andiamo a creare il nostro livello lo andiamo a creare sotto a tutto quindi mettiamo visibile mettiamo attivo il nostro livello sottostante e andiamo a creare un nuovo livello andiamo a creare sfondo tv lo chiamiamo così 2560 per 1440 colore in primo piano sì il nero va bene e quindi creiamo ok ovviamente come avete visto ragazzi come prima non sarà chiaramente centrato ma dovremo in questo caso centrarlo in questo caso possiamo fare così andiamo su immagine andiamo su dimensione superficie e anche qui mettiamo 2560 per 1440 stiamo impostando la dimensione dell'immagine di lavoro come il livello più grande e clicchiamo su centra vedete che lui ci centra il nostro contenuto e clicchiamo su ridimensione vedete che lui ce l'ha ovviamente centrato chiaramente dobbiamo andare a prendere comunque il nostro sfondo tv che mettiamo sotto a tutto andiamo a prendere lo andiamo a spostare in maniera tale da centrare anche il nostro livello dello sfondo chiaramente ragazzi siate precisi quindi dovrete fare un lavoro di questo genere andate proprio a centrarlo con il bordo dell'immagine vedete che così è perfetto molto bene ora dovremo andare a vedete che qui è uniforme il nero ma in realtà dopo verrà separato ora dobbiamo andare a imprimere una immagine ovviamente sullo sfondo e la nostra immagine in realtà ce l'abbiamo già è questa del nostro banner è questo è il nostro banner perché andremo ad ingrandirlo e utilizzarlo come sfondo sfumato quindi dovremo andare a duplicare il nostro buffer rilasciato lo dupliciamo una volta lo dupliciamo una seconda volta poi vi spiegherò il perché e lo rendiamo invisibile ci servirà dopo lo prendiamo andiamo a mettere esattamente sopra allo sfondo tv e andiamo a ingrandirlo di quanto lo ingrandiremo lo ingrandiremo proviamo ad ingrandirlo ovviamente del nostro livello sottostante quindi 2560 per 1440 andiamo a vedere e vedete che infatti lui ce l'ha esattamente posizionato grande come il livello sottostante lo andiamo ovviamente ad inserire qua andiamo a fare in modo che sia esattamente combaciante perfetto e vedete che è perfettamente combaciante nei bordi molto bene chiaramente così è brutto da vedere ovviamente sì ma noi dovremmo andare a fare alcune modifiche intanto possiamo lo voglio più grande quindi scaliamo ancora e andiamo a mettere questa parte proprio togliamo qui ovviamente la catenella andiamo a mettere la parte della ragazza qui e andiamo a rendere più grande il viso del ragazzo ok clicchiamo su scala molto bene e andiamo a sfumare andiamo a sfumare questa parte di sfondo quindi faremo un filtri faremo una sfocatura sfocatura gaussiana andiamo a dargli un 15 indicativamente sì va bene vedete che ha già un bel effetto vedete dopo poi lo renderemo ovviamente ancora più interessante magari lo scuriamo un po' quindi andiamo su colori curve lo rendiamo un po' più scuro rispetto al ok questo deve risaltare ovviamente bene andiamo a fare un lavoro di questo genere andiamo intanto a imprimere una scritta che è la scritta di nuovo del canale sul nostro sfondo tv intanto vedete che il livello qui ovviamente è maggiore questo del buffer rilasciato che l'abbiamo ingrandito andiamo su livello e mettiamo livello dimensione immagine vedete che è ritornato a livello pari esattamente pari a quello della superficie dell'immagine andiamo di nuovo a prendere il nostro e andiamo a creare un nuovo livello scriviamo scritta scritta anzi no non facciamo nessun nuovo livello tanto ce lo creano automatico la scritta prendiamo di nuovo il nostro strumento di testo andiamo qui con il nostro nero sempre con il nostro zanzai itachi e andiamo a scrivere in grande in nero dai zucke ovviamente lo selezioniamo con control andiamo a dargli una bella ingrandita andiamo a vedere se così va bene in modo a coprire gran parte del sfondo anche di più io farei quindi andiamo a prendere un bel 360 esageriamo 380 molto bene e andiamo a ruotarlo di quanto lo sapete già andiamo a ruotarlo di meno 8 fate ragazzi tutte le cose simmetriche il più possibile ok questo vedete con questo con questo questo con la scritta che andiamo a scrivere qua ok manga dreams stiamo facendo ragazzi la sto facendo con voi quindi è normale che possa succedere ovviamente prendiamo sto facendo dei danni anche perché non sono andato a capo ok andiamo a capo scriviamo dreams molto bene da questione g ecco manga dreams ok e andiamo ovviamente ragazzi a scalare a ruotarlo ovviamente di meno 8 ruotiamo prendiamo e lo andiamo a mettere qui cercate di vedete questa parte magari che finisce dove finisce daizu che fate iniziare manga cercate di fare le cose il più simmetrico ovviamente possibile io adesso vado chiaramente a una velocità supersonica ma cercate di fare le cose meglio che potete anche dal punto di vista sia cromatico che di simmetria molto molto bene magari questo volevo abbassarlo un pelo ok perfetto direi che ci siamo ora voglio andare a fare una cosa importante allora intanto questo manga ed aizuke li fondono in un unico livello quindi vedete abbiamo una scritta vedete unica e andiamo a fare un bel modalità diffusione livello fondigrana in maniera che si fonda con lo sfondo fondigrana vedete che ci crea questo bel effetto nel quale si vede la parte dello sfondo sotto quindi molto bene e possiamo possiamo anche duplicarlo se lo volete più no perché dopo puoi mettiamo livello ritaglia al contenuto che abbiamo sempre ovviamente livelli più piccolini su cui lavorare e vogliamo ragazzi fare un'altra cosa secondo me molto 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 carina che è quella di andare a dare uno sfondo particolare su cui imprimere questo livello cioè andiamo a vedere una cosa che abbiamo già visto in realtà quindi sfondo tv andiamo qui a selezionare questo andiamo ad aprire un livello quindi apri come livelli il nostro livello vedete del background cioè questo livello di bambù questa texture di bambù sempre scaricata da pixabay mettete texture bambù vi scaricherà questa potete scaricare una di quelle texture una di quelle è questa qui che a me piace molto e quindi andiamo ovviamente a scalare di ovviamente avete già capito anche in questo caso di chiaramente 25 e 60 per 1440 ok e andiamo a posizionarla ovviamente al centro così andiamo ovviamente vedete che abbiamo già fatto un buon lavoro molto bene rendiamo visibile il tutto e ragazzi applichiamo la magia che è questa allora intanto siccome voglio che tutta questa parte e anche questa venga queste due immagini vengono impresse sul bambù voglio fare una cosa di questo genere tolgo la visibilità a questi due livelli e faccio un tasto destro nuovo dal visibile quindi nuovo dal visibile mi crea un unico livello con tutti questi sotto visibili e rendo visibile solamente questo e solamente il bambù quindi ora posso fare un un ovviamente vado sul livello visibile faccio un filtro faccio un mappe mappa sbalzo e metto come mappa il nostro bambù quindi vado qui mi apre tutti i file che sono questi vado su senza nome che è quello dove stiamo lavorando noi vado su bambù clicco e vedete che lui mi ha impresso vedete mi ha impresso tutta l'immagine sul bambù anche qua vedete che bello poi potete ovviamente regolare sia l'asimuth cioè l'ampiezza che l'elevazione dell'incisione vedete proprio me l'ha andata a dipingere sul bambù come se fosse una staccionata quindi molto molto interessante facciamo un ok ma io ragazzi voglio che questa parte qui non sia impressa sul bambù cioè sia come un pannello rialzato quindi cosa vado a fare vado a prendere il livello che ho duplicato prima e lo vado a mettere sopra tutto boom vedete mi ha tolto dalla mappa sbalzo questo livello qua quindi ovviamente posso fare anche una cosa di questo genere lo vado a duplicare quello sotto faccio livello a dimensione immagine modo da renderlo più grande vado a fare un tasto destro alfa selezione lo seleziono tutto prendo il nero lo vado a riempire di nero vedete e vado a fargli una bella sfocatura gaussiana filtri sfocatura gaussiana gli vado a dare un un bel 15 ok e poi lo vado anche a duplicare un paio di volte anche un po' di più ok poi vado a fondere in modo da rendere un livello sfocato unico abbiamo però dimenticato una cosa ovviamente che sono le nostre scritte che dovevamo andare a duplicare anche quelle e quindi andiamo a prendere che sono ovviamente queste no che sono queste e queste quindi andiamo a prendere questa parte queste tre le andiamo a spostare direttamente in alto quindi le prendiamo e le mettiamo sopra a tutto eccolo eccolo qua torniamo qui sul visibile ecco qua poi ovviamente ragazzi possiamo fare andiamo sul possiamo fare un di nuovo tasto destro un nuovo dal visibile in modo da andare a fare gli abbellimenti finali gli abbellimenti finali che sono come sempre colori curve mentre gli diamo un pelo di di contrasto gli andiamo a dare un filtro gli andiamo a dare un miglioramento nitidezza maschera di contrasto non troppo altrimenti storpia e ragazzi vi facciamo anche questa cosa sulla questa parte del pannello andiamo con gli andiamo a dare come una lucidata quindi il nostro strumento di scherma brucia con un pennello molto grande ovviamente che sia un pennello semplice tondo dimensione molto grande quindi così andiamo su scherma andiamo su una forza una durezza media e andiamo a fare una cosa di questo genere vedete lucidata sotto se avete visto l'effetto ve lo faccio rivedere guardate lucidata ok vedete che è molto più lucido molto più di impatto e poi ragazzi andiamo a fare un filtri andiamo a fare un luce e ombre vignettatura che da un poco non lo faccio invece mi piace molto andiamo a dargli questa vedete questo effetto di oscurità man mano che si ci si allontana dal centro quindi è dal centro dell'immagine che è ovviamente la protagonista quindi vedete che andiamo proprio a verso i margini ad andare verso il nero e qui andiamo a regolare la nostra oscurità clicchiamo su ok una volta che abbiamo terminato il nostro banner il nostro lavoro possiamo ovviamente esportarlo quindi file esporta come andiamo a scrivere banner 2 in questo caso esportiamo vi consiglio di esportarlo in png o eventualmente jpeg ovviamente png ci metterà un pelo di più però vi mantiene anche il canale alfa quindi eventuali canali di trasparenza lo andiamo a salvare in banner2.png andiamo a vedere il risultato del nostro lavoro e direi ragazzi che è veramente veramente molto 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 interessante potete utilizzarlo per i vostri progetti potete pubblicarlo subito sul vostro canale youtube ragazzi se vi è piaciuto il video commentate mi raccomando lasciatemi un messaggio lasciatemi un commento io ringrazio Anosmel perché mi ha dato la fantastica idea di creare questo progetto con voi da 0 a 100 quindi da A alla Z dall'inizio alla fine ragazzi venite per trovare anche il suo mio profilo Instagram vero andriscoerone andriscoeracademy e noi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video ciao e grazie a tutti